WeMake è il robot adatto a tutti. Si programma con Scratch o Arduino e ciò lo rende accessibile veramente anche ai più piccoli. È disponibile nelle versioni a macchinina, che lo rendono facilmente utilizzabile anche dai più piccoli, oppure nelle versioni completamente assemblabili, composte da barrette metalliche e sensori che possono aiutarci a realizzare i progetti che la creatività ci suggerisce. Grazie a questi kit si può interagire con l'IoT, l'intelligenza artificiale, riconoscimento facciale e riconoscimento vocale. Quindi anche i più piccoli possono entrare in contatto con tecnologie avanzate.